Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Siamo al secondo episodio della nostra Trading Library, la nostra serie relativa ai libri consigliati per chi vuole fare trading e per chi vuole formarsi ed è alle prime armi. L'altro giorno abbiamo guardato quello che era il libro di Elder, che è un libro che consigliavo vivamente ad esempio a chi volesse iniziare questo tipo di attività, perché vi avevo detto che aveva dei vantaggi enormi sia nell'essi con la tipologia del modo in cui si esponevano i concetti e poi soprattutto il lato psicologico che era trattato in maniera estremamente precisa, ma poi anche il discorso relativo al fatto che Elder fosse un trader che veniva prestato al trading dalla materia della psicologia e questo ci consentiva di poter vedere una sfaccettatura diversa di uno dei problemi più gravi del trading, quello di natura emotiva. Certo che molti di voi hanno acquistato questo libro, scherzi a parte, vi avevo anche poi detto che quel libro era un po' carente da un punto di vista di metodologie, perché non entrava proprio nello specifico di molte tecniche, anzi alcune di quelle non mi stanno neanche a genio a me più di tanto. Oggi quindi andiamo a fare un'altra cosa, ad aggiungere quello che può essere considerato un libro come un appendice di un libro in realtà ragazzi, perché non è un vero e proprio libro, presuppone che voi abbiate delle conoscenze di base di quello che è il trading, quindi non è un manuale come può essere vivere di trading quello che abbiamo visto nella puntata precedente, bensì è un libro che vi dà una chicca relativamente alle strategie di swing trading. Swing trading lo abbiamo visto, è uno dei miei preferiti, uno delle mie metodologie preferite e magari lo approfondiremo anche in qualche video, se ci sarà modalità qui sul canale Trading On. Allora il libro in questione ragazzi ve lo svelo subito qual è, ed è un libro di Dave Landry, questo libro in questione parla di 10 pattern di swing trading, quindi 10 pattern cosa sono i pattern ragazzi, intanto vi faccio vedere il libro, ok ragazzi il link è sempre per l'acquisto in descrizione per chi di voi vuole comprarlo, è un libricino piccolissimo ragazzi, quindi intanto molto piccolo, un po' costoso forse per il numero di pagine che ha, però ragazzi sono pagine zeppe, si va dritti al sodo, non si gira diciamo intorno all'argomento, quello che si fa essenzialmente è parlare immediatamente di quelle che sono le strategie. Questo è un libro indicato se sapete già cosa fare, soprattutto se avete già fatto trading per esempio, quindi se voi avete già un conto, state operando, avete fatto acquisti o vendite di strumenti finanziari, questo è un libro che potete trovare utilissimo, perché vi dà delle strategie di swing trading costruite su pattern. I pattern ragazzi sono delle ripetizioni statistiche, l'idea che sta alla base di un pattern strategico diciamo per fare trading, è quella che noi andiamo a utilizzare non degli indicatori o degli oscillatori per avere dei segnali di ingresso sul mercato, bensì andiamo a utilizzare le candele, la price action, quindi il prezzo in generale, per dire ok questa situazione che si è venuta a creare è una situazione favorevole ad un'operazione long, oppure è una situazione favorevole ad un'operazione ribassista. Il pattern in generale è una ripetitività di quello che avviene nel mercato. Ora badate bene, pattern non significa ragazzi che c'è una ripetitività che viene rispecchiata all'80-90% delle volte, nei mercati finanziari questa cosa non la troverete mai, non esistono dei pattern che vengono ripetuti costantemente dal mercato per un numero di volte pari all'80-90%, si trovano a volte dei pattern discreti che hanno per esempio una ripetitività del 60-65%, già su 65 ragazzi siamo a degli eccessi, probabilmente è un pattern che sta per essere modificato, il mercato stesso non lo ripeterà magari nelle prossime settimane, quindi bisogna starsi molto attenti, però il concetto per farvi capire che cosa è un pattern, un pattern è una situazione di mercato che indica ad esempio una certa probabilità che il mercato possa salire o scendere. Uno dei pattern più conosciuti e famosissimi è quello creato da una candela che è l'hammer, ne ho parlato diverse volte, l'hammer indica semplicemente che in un mercato ribassista a un certo punto della giornata, immaginiamo un hammer costruita su una giornata, a un certo punto della giornata il mercato rimbalza fortemente da un minimo che stava creando e va a chiudere in una parte alta della giornata, significa che in sostanza il mercato ha invertito il trend all'interno di quella giornata. La hammer per esempio è un pattern ragazzi, un pattern molto semplicistico però è un pattern, se il mercato il giorno dopo rompe il massimo di quella candela che è la nostra hammer, si va long, quindi si entra al rialzo perché si pensa che il mercato abbia iniziato un nuovo trend. Poi c'è da fare una serie di considerazioni, ma complichiamo troppo questo video che non ha nessun senso, sul fatto se è giusto o meno questo tipo di atteggiamento e in quali mercati ad esempio le hammer funzionano meglio o no. Questo libro vi dà 10 pattern, vi indica quali sono proprio quelle figure ragazzi, vedete, ve li fa chiaramente qui, io l'ho strariempito dei miei disegni e disegnini e approfondimenti, vedete. È un libro estremamente veloce, estremamente dinamico, estremamente facile a direttura, come questa serie vi ho già detto deve fare, quindi vi deve indicare dei libri molto semplici e vi dà questi 10 pattern. Funzionano o non funzionano? Allora uno di questi è estremamente funzionante sui mercati delle criptovalute nel medio periodo, funziona discretamente ragazzi ed è il gatekeeper, lo trovate scritto qui. Insomma qui in questo libro possiamo avere degli spunti interessanti da accostare a quello che era il libro di Elder, di cui vi ho parlato nella puntata precedente, perché mancava magari di una serie di strategie, e quindi perché no, fate di questo libro un bagaglio relativamente ai pattern e soprattutto anche un modo in cui si ragiona sui grafici senza usare oscillatori e indicatori, che io ritengo degli strumenti non utili per esempio ragazzi, per chi vuole capire quando entrare in posizione. L'oscillatore o l'indicatore è più utile se vogliamo delle conferme, quindi da utilizzare magari come filtro operativo piuttosto che come reale indicatore di ingresso o uscita da un mercato. Bene ragazzi ci siamo, siamo arrivati a questa seconda puntata, andremo avanti anche nelle prossime settimane. Come sempre io vi ringrazio di seguirmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatevi nei commenti tutto ciò che pensate, e soprattutto quali sono i vostri consigli sui libri, quali libri avete letto che vi hanno cambiato la vita da trader, consigliateveli perché potremmo ancora una volta aggiungerli a questa serie. Ciao a tutti, alla prossima!